cioè fai tu ragazzi stavo facendo delle foto al pezzo con la torre sono arrivate tre persone e hanno parcheggiato lì è arrivata la quarta e guardate dove ha parcheggiato adesso andiamo intervistarla cioè fai tu vedi che sto facendo le foto dove mi parcheggi ma vuoi non mettere la mia macchina nelle foto scusa perché ha l'alto valore artistico la tua macchina certo cioè guarda solo lì come si chiamano gli arbre magique stilosi che ho allora hai vinto va bene documenterò tutti gli arbre magique il cubo di rubik fantastico e o pesciolune